Benvenuti alla quarta parte di Kirby Superstar Ultra. In questo livello dovremo affrontare la grande offensiva speleologica, ovvero un livello che per vincere bisogna prendere in questi 60 tesori. Kirby cadrà in un grande buco e non riuscirà più ad uscirne. Ecco. Ora vi mostrerà i comandi. Ma niente di importante. Dice soltanto che per prendere i forzieri dovete starvi vicino e premere la freccia in su, nel DS. Andiamo. Allora. Ok. Il primo. Un bel medaglione. Qua ci sarà una porta. Vedete, una porta nascosta. Noi qui ci torneremo dopo, più tardi. Poi ve lo spiegheremo. Perché? Perché qui c'è questo forziere. Ora. Voi dovete distruggere solo la prima bomba. E la seconda. E sì, cioè la terza. Lasciate quella in mezzo. Prendete il forziere. E siete a cavallo. Ok, abbiamo trovato la posta. Ora vi mostro perché non dovevate prendere la bomba. Perché se la distruggiavate usciva la lava. Ok. Ora andiamo qui. A questa porta. Andiamo qui. Saltiamo. Entriamo. Ci sarà questo forzi. Ma c'è pure la corrente. Noi abbiamo trovato un altro. Mi salite. Ok. Ormai l'abbiamo preso, quindi non serve più. Ok, andiamo. Un'altra porta. Allora. E sì, che cosa fa? Andiamo. Poi c'è di te per di qui. Vediamo se c'è prima un altro scherzo. Non sembra esserci. Quindi. L'unica possibilità è di passare per qui. Vi avverto è molto è molto difficile questo livello. No, ma per questo livello. Allora. Prima di tutto. È molto difficile questa parte. Perché potete essere incastrati. Come posso dire. Sì, incastrati. Qua in mezzo. Così. Ecco. Il mio potere se ne può andare. Retiro il mio amico. Perché mi è solo l'inficio. Allora. Dovete premere. Prima il secondo. Poi il terzo pulsante. è molto complicato. E' meglio compiuto. Ho già detto. No. Vado, se ci riuscite siete venuti Proviamo a fare il contrario No, ci si incastra, vedete Quindi non si ha più possibilità di fuga Ah no, invece Ok, andiamo E siamo ritornati qua Scendiamo per qua Ristruggiamo le mie divise Ok Che burcone dici Ok Prendete un forzore Hai trovato un gatto fortuna Spero che ce la porti Aspettate, avevo visto qualcosa qui Mi avendo curioso Che cos'è? Ah, è da dove siamo venuti prima Lo scendiamo per qui Ok Ok, appena ci salti sopra Si distruggono Quindi fate molto a questo Andiamo qui Ok, li abbiamo distrutto questo giro Ora, per prendere questo tesoro Immagino qui Non ditemi che è caduto nella lava Ah, si è caduto proprio nella lava Quindi Bisogna lasciare intatti Bisogna lasciare intatti Questo Eh, questi blocchi Solo questo blocco di mezzo Oh Sì Sbabbiamo L'enigma nascosto Eh, non è più nascosto Ok Ora, torniamo qui Prendiamo Ecco Bisogna essere anche molto rapido Per questo livello faremo due parti È molto, molto, molto lungo Quindi Ok Spade del drago Ma che bella Ok L'abbiamo presa Missione completa Ora Allora Mi ero incuriosito qua Vedete Perché si sono rotti dei blocchi Vediamo C'è qualcosa Sì C'è un bel tesoro Ok Una caramella Molto Molto Mi sono stufato Mi sono stufato di queste livello O quello che sono Ok Ok Ho bisogno urgente di vita Ma urgente è dire poco Proviamo a scendere qui No Qui non c'è Questi blocchi Non si possono rompere Quindi bisognerà passare da Qua sopra Vedete lì un tesoro Beh, non muore male Ok E anche qua ci saranno Un attacco a vite Ora bisognerà Basta Guardate Poggio di così non potremmo stare Sì Abbiamo avuto una fortuna Salviamo i progressi del gioco E ricarichiamo la nostra vita Ok Ora da qua Immagini Eh Bisogna tornare indietro Basta Poggio di così non potremmo stare Ora E andiamo qui sotto Ops No Scusate Era quello Quello a fianco Ok Andiamo A prendere Questo tesoro Ok Ora Bisogna Bisogno Provare un modo Per Guardate Per distruggere Quindi Bisogna passare da qui Indubbidamente Ora Ora Passate qui E vedete questi blocchi qui Distrutti Coordinati indietro I nemici qua non muoiono mai Cioè Li appardono all'infinito Maschera Spettro Ci stiamo facendo un po' di soldini Ok Abbiamo preso Questo vetro Ora Ora Devo Tornare indietro Devo salvare Progresso Ok Salviamo E concludiamo la prima parte Di caccia Al tesoro Ci vediamo Alla prossima puntata Arrivederci